Ciao a tutti e benvenuti qui per un rapido aggiornamento sul mercato azionario americano. Luglio fino ad oggi è stato un mese veramente terribile. Ad oggi il Nasdaq segna solo su luglio il meno 4% circa e il mio portafoglio ha fatto anche peggio. Negli ultimi due giorni tuttavia il trend sembra essersi invertito e iniziamo a vedere un po' di verde che ci piace sempre così tanto. Se mi seguite ricorderete uno dei miei ultimi video. Dicevo di aspettarmi un ritracciamento anche molto importante ma tuttavia mi aspettavo che sarebbe seguito alla stagione degli earnings, delle trimestrali. Il motivo è che mi aspetto delle trimestrali molto positive e continuo a farlo e quindi poiché il mercato azionario è sostanzialmente deciso dalle trimestrali e dei risultati delle aziende mi aspetto che anche lo stesso mercato possa salire. Se avete visto quel video vuol dire che vi piace questo canale quindi vi ringrazio, vi chiedo di mettere mi piace e poi di iscrivervi se non lo siete già. Comunque quindi cos'è successo nelle ultime settimane? Abbiamo iniziato a vedere delle trimestrali importanti, in particolare sono usciti i numeri di Alphabet, i numeri di Tesla, di qualche grande società finanziaria ma anche poi di società di semiconduttori come TSMC e KLA. Poiché in queste trimestrali si sono annidate alcune ombre il mercato ha reagito in maniera molto pesante. E' sembrato anche un po' che si cercasse in qualche modo un pretesto per far sgonfiare delle quotazioni, delle valutazioni comunque alte. Partiamo da Tesla perché in pratica è un caso unico. La trimestrale ha diluso su tutta la linea ma la cosa non mi stupisce affatto perché come sapete considero Tesla come azione una vera e propria scam. In sostanza Tesla ha confermato di essere un'azienda automotive, quindi continuiamo a vedere fatturato quasi totalmente solo dalla parte automotive, consideriamo a vedere una spesa anche però in data center e infrastrutture AI che però non ha riscontri sui conti particolari, fa fatica a vendere e ha margini tipici dell'automotive quindi molto risicati. Inoltre si è detto che Musk ha rimandato il lancio del fantomatico robotaxi che ovviamente non esiste, non esisterà. Nonostante ciò comunque il ritracciamento di Tesla è stato solo del 10% che visti i suoi numeri completamente fuori da ogni logica non è neanche tanto. Anche oggi la traiettoria è positiva e vediamo un recupero. Vabbè contenti gli investitori di Tesla in sogni. Per un'azione che aveva tutti i meriti per essere massacrata e invece è stata tutto sommato graziata, ne abbiamo invece un'altra che ha avuto dei risultati tutto sommato buoni ma che invece è stata punita dal mercato. Sto parlando di Alphabet. È cresciuta di circa il 13% sia per quanto riguarda il fatturato sia per quanto riguarda anche il margine operativo. Quindi il margine netto è salito dal 13% che non è poco. Nonostante ciò il valore dell'azione è giù dell'8%. L'interpretazione dei giornalisti è che sia stato punito il risultato negativo per quanto riguarda il business di YouTube e in generale l'andamento per quello che è il mondo dell'advertisement. Questa motivazione ha senso perché anche Meta che lavora in un ambito simile ha ceduto il passo come prezzo dell'azione. Tuttavia Google ha portato anche dei risultati positivi in particolare per quanto riguarda il comparto del cloud enterprise quindi dei servizi cloud che Google fornisce alle aziende. E questo è cresciuto di circa il 30% che è un risultato ovviamente molto molto importante visto che parliamo di fatturati di diversi miliardi di dollari. Questa notizia è altamente positiva per quelli che saranno gli earnings di Microsoft e Amazon. In particolare Microsoft rilascia gli earnings praticamente il 30% e sostanzialmente fa solo cloud. Quindi ci aspettiamo che se conferma il trend di Google avrà dei risultati completamente stellari. Amazon anche tendenzialmente avrà dei risultati eccezionali sull'area cloud ma ovviamente si porta dietro anche un business retail e qui onestamente non ho delle particolari aspettative e non saprei come si comporterà. Quindi Google per quanto mi riguarda dà delle indicazioni positive sugli earnings che sono a venire nei prossimi giorni. Come saprete sono molto esposto anche sull'ambito dei semiconduttori e quindi ho seguito con grande interesse anche gli earnings di TSMC e KLA che sono due aziende che in sostanza lavorano per produrre dei chip. Quindi lavorano nella fase di produzione per quelli che sono i chip di Nvidia, di AMD, di Qualcomm e così via. Il fatturato per TSMC è salito del 40% che è un numero veramente eccezionale e anche per KLA il fatturato è salito del 10% ma è un numero molto importante perché fino all'anno precedente invece il suo fatturato era in calo quindi è un miglioramento notevole rispetto ai precedenti trend. Ovviamente poiché queste aziende producono per Nvidia e gli altri mi aspetto che anche Nvidia potrebbe avere dei risultati stellari e anche AMD, Qualcomm e forse anche Intel. Comunque sia per Microsoft che per AMD le risposte le avremo tutte domani visto che verranno rilasciati i loro earnings. Per Nvidia invece dovremo aspettare fino alla fine di agosto e comunque nel mese di agosto si concentreranno tutti gli earnings più importanti. Ma quindi abbiamo visto sui semiconduttori nonostante dei risultati positivi dei forti cali nell'ultima settimana e questo potrebbe essere stato innescato prevalentemente da alcune dichiarazioni di Trump che ha parlato nel caso venga eletto di tassare fortemente la Cina e di evitare sostanzialmente che possa essere un cliente delle aziende di chips. Io penso che questo sia poco più che un pettegolezzo comunque non è una notizia è semplicemente un rumor quindi l'effetto di questa dichiarazione penso che scomparirà a breve e verrà sovrascritto dai risultati reali e dalle trimestrali. Per quanto riguarda le altre azioni di mio interesse è stato anche il risultato di ServiceNow che è un'azione che ho messo nel portafoglio da qualche settimana. È un'azienda software as a service e devo dire che i risultati sono stati ottimi per quanto riguarda la crescita del fatturato. Come avevo previsto in sostanza sta aumentando il suo fatturato perché adesso può vendere servizi di generative AI connessi ai propri prodotti quindi è come se avesse una nuova linea di prodotti dal nulla. Unico neo è che ha dei margini di profitto in contrazione ma per un'azienda growth tutto sommato la cosa non mi spaventa più di tanto. Comunque è l'azienda che su luglio sicuramente mi sta dando i risultati migliori. In conclusione la stagione degli earnings deve ancora entrare nel vivo e da domani entrerà nel vivo. Le indicazioni rispetto agli earnings già usciti mi fanno ben sperare per titoli quali Microsoft, Amazon, Vidya che poi sono la più grande parte della capitalizzazione del mercato. Quindi mi aspetto che ci sarà un impatto positivo da questi earnings. Tesla ha fatto schifo ma il suo prezzo è comunque sostenuto dai vari fanboy quindi mi sembra che sostanzialmente ci sia questa specie di resistenza che è intorno ai 260 dollari e se si dovesse avvicinare a quel prezzo anche se lo vedo difficile potrei valutare anche uno short. Questo è tutto, like, iscrizione e battete sempre il mercato.